Supreme ha in serbo un po' di Nike veramente interessanti per noi. Travis Scott non ha ancora finito con le Jordan Wallow e meno male che la Olive doveva essere l'ultima. Kanye West potrebbe star tornando davvero verso Nike? Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati a Soul Corner, l'appuntamento settimanale in cui diamo un'occhiata a tutto ciò che succede nel mondo delle sneakers. Come avete visto all'inizio del video ci sono un bel po' di notizie molto interessanti e molto calde, soprattutto e specialmente l'ultima, quindi mettetevi comodi e cominciamo subito con l'episodio. Cominciamo come al solito con un breve recap delle migliori release di settimana scorsa. Cominciate il 9 di maggio con la Hotstep 2 in collaborazione tra Nike e Nocta nella colorazione Triple White. Sicuramente un grandissimo successo anche questa, esattamente come la versione Total Orange. Prezzo di retail 200€, al momento si trova tranquillamente intorno quasi ai 300€. Colorway molto clean, scarpa molto bella, secondo me è silhouette davvero valida, fatemi sapere se siete riusciti a prenderle, anche perché erano molto molto limitate. Il 9 e in realtà anche il 10 di maggio ci sono stati poi i drop ufficiali sul sito di Travis Scott delle Jumpman Jack, sia per quanto riguarda questa colorway sale, sia per quanto riguarda poi la University Red. La sale era il 9 di maggio, mentre la University Red è stata rilasciata il 10. Per quanto riguarda la University Red non ho visto nessuna win, per quanto riguarda la sale in realtà nemmeno tramite il sito di Travis Scott. Erano esclusive per gli Stati Uniti, quindi non spedivano direttamente al di fuori degli Stati Uniti e la colorway University Red era limitata solo ed esclusivamente al sito di Travis Scott, quindi non verrà rilasciata in altre situazioni. E' proprio al discorso di questa University Red che ci collegheremo dopo per quanto riguarda Kanye West. Il 10 di maggio abbiamo avuto anche la release delle Dunk SB in colorazione Chicago, prezzo di retail 120€, al momento ci sono ancora disponibili una buona quantità di paia, però solo nelle taglie più piccole, ovvero dal 41 in giù. Per quanto riguarda le taglie superiore sono andate completamente sold out, ma con una ventina, trentina di euro in più dovreste riuscire ad acquistarle comunque, che secondo me per una scarpa così bella ci può anche stare come prezzo se vi piace. Lo stesso giorno, abbastanza a sorpresa, nel senso che io non ero a conoscenza di questa release, sono state rilasciate due Adidas Special in collaborazione con Size, in esclusiva nei negozi di Size. Due colorway molto carine, ma soprattutto che ricordano veramente tanto la collaborazione con Wales Bonner, quindi con questa linguetta rovesciata in stile molto calcistico. Sono andate praticamente sold out ovunque, di sicuro per quanto riguarda dettagli più piccole, e probabilmente avranno anche un decente prezzo di resell. Il prezzo di retail era di 130 euro, se le avete prese probabilmente ci potete guadagnare una buona quantità di soldi. Infine, sabato 11, c'è stata pure la release delle Adidas in collaborazione con Bad Bunny Last Campus. Prezzo di retail di 160 euro, non hanno riscosso un grande successo, seppur fossero decentemente limitate, però l'interesse per questa scarpa è sceso veramente tanto. Adidas e Bad Bunny lo sanno, infatti si tratta dell'ultima Campus che è stata rilasciata, per poi passare alla silhouette Gazelle. Cominciamo adesso a dare un'occhiata alle notizie più importanti emerse. Intanto, dopo settimana scorsa, abbiamo ricevuto anche delle nuove immagini molto più belle, molto più dettagliate, delle Jordan 1 Black Toe Reimagined. In queste foto possiamo vedere proprio bene come effettivamente sarà la scarpa, e raga, secondo me è devastante, veramente molto bella. La pelle dalle foto è difficile giudicare, ma non sembra niente di eccezionale. Ciò che mi piace veramente tanto è sicuramente la suola pre-giallita, non esageratamente. Ovviamente il dettaglio della scritta Air Jordan laterale, ma anche come è stato fatto l'autografo con la dedica all'interno della scarpa. Dettaglio, secondo me, veramente, veramente molto molto bello. Scarpa che dovrebbe essere praticamente da tenere in esposizione, ma che sicuramente io, una volta acquistata, indosserò anche. Fatemi sapere se anche voi punterete ad averle. Come dicevo all'inizio video, a quanto pare Supreme ci sta per riservare un paio di sorprese in collaborazione con Nike, veramente, veramente belle. Tanto per cominciare, la più importante, quella che tecnicamente è anche più vicina, è la release che sembra essere quasi confermata di una Jordan 1 in collaborazione tra Nike e Supreme. Dedicata, a quanto pare, al trentesimo anniversario. Non ci sono assolutamente immagini, non ci sono assolutamente conferme, non abbiamo idea né di quando uscirà, né di come sarà fatta questa Jordan 1. Non sappiamo se uscirà durante la Spring Summer, quindi nei prossimi due mesi, o se invece è prevista per la prossima stagione autunno-inverno, ovvero dopo l'estate. In ogni caso, a quanto pare, insieme a questa scarpa arriverà anche una collezione che comprenderà accessori come anche abbigliamento, che possono essere giacche, canotte da basket, pantaloncini, felpe, magliette e, spero, anche il pallone perché sarebbe veramente molto molto bello da avere. Ma non è tutto qui, perché a quanto pare, nel 2025 è prevista anche un Air Max 1 in collaborazione con Supreme. L'immagine che vedete qui è puramente indicativa, non saranno assolutamente così, o potrebbero essere così, ma non lo sappiamo minimamente. Potrebbero in realtà risultare completamente diverse e essere veramente terribili. In ogni caso, a quanto pare, per il 2025 è prevista anche un Air Max 1 in collaborazione con Supreme. Quindi sicuramente anche questa avrà un grandissimo hype. Quindi a questo punto non ci resta che aspettare e vedere quando usciranno nuove informazioni al riguardo. A breve, nelle prossime settimane, barra nei prossimi due mesi, dovremmo vedere la release del nuovo estratto della collaborazione tra Nike e Union LA. E in questo caso sulla Nike Field General. Come potete vedere abbiamo delle nuove immagini per quanto riguarda questa colorway sale slash rosa. Scarpa veramente molto bella secondo me, molto facile da vestire, è piuttosto semplice, ma secondo me sono riusciti a eseguirla veramente molto bene in questa collab. Visto che al momento tramite l'applicazione sneakers Nike sta rilanciando la silhouette in generale, in general release, con delle colorway normali e risulta veramente troppo banale. In questo modo secondo me sono riusciti a dare una nuova vita alla scarpa che secondo me può avere del potenziale. A me piacciono molto, voglio vedere delle foto migliori anche per l'altra colorway, quella nera. Prima di decidere se effettivamente vorrò puntarci in modo serio o meno. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Settimana scorsa abbiamo parlato anche della Jordan 4 Low o Remastered in collaborazione con Nigel Silvester. E durante la settimana è emersa la notizia che a quanto pare vedremo anche una Jordan 4 normale con sul back tab invece del classico Nike Air o il classico Jumpman la scritta Bike Air. Per chi non lo sapesse, Nigel Silvester è un famoso ciclista street, potremmo dire, che va in giro appunto sulla BMX ed è veramente molto bravo, uno dei più famosi al mondo. E al momento quanto pare l'unica informazione è questa della scritta Bike Air e del colore che potrebbe essere molto sulle tonalità dell'arancione. Non si hanno altre informazioni, non si sa se arriveranno veramente, se vedranno la luce del sole, se saranno disponibili al pubblico o meno. Non ci resta che anche qui di nuovo aspettare e vedere. E come al solito si parla anche di Travis Scott. Quell'uomo sta avendo un'influenza veramente incredibile sul mondo delle sneakers. Cominciamo in modo molto semplice vedendo qualche fotografia in più della Jumpman Jack in colorazione Dark Mocha prevista per il prossimo autunno. Colorway secondo me molto molto bella, eseguita veramente bene. Se posso dire la mia forse avrei aggiunto qualche accento di rosso in più come ad esempio sullo smiley face, sul tallone della scarpa o magari anche il Jumpman sulla linguetta. Molto bella però devo dire la scritta Jack in bianco a contrasto con la suola nera. Sicuramente sarà anche questa una colorway molto ricercata e molto apprezzata, anche se personalmente io continuo a preferire la versione sale. Amanti delle Jordan 1 Low in collaborazione con Travis Scott sappiate che ne sta per arrivare un'altra. Sì esatto ne abbiamo già tre in arrivo, questa è la quarta. Oltre alla Dark Olive prevista per questo settembre, alla Olive in taglia da uomo prevista per l'anno prossimo, l'anno prossimo arriverà una nuova Dark Mocha. Quindi una nuova versione completamente nera e marrone. Abbastanza simile anche alla Jumpman Jack che abbiamo visto ora. Ah giusto, stavo per dimenticare anche la Pale Vanilla, arriverà anche quella. Io penso che stiano iniziando veramente a esagerare perché sì sono delle scarpe belle ma così perdono veramente tanto tanto valore. Vediamo se tra tutte queste riuscirò a prenderne almeno una. Il problema è che ce ne sono alcune che non mi piacerebbe nemmeno avere. Ad esempio questa Dark Mocha completamente nuova non è che mi faccia impazzire particolarmente. Preferirei piuttosto una delle due Olive in arrivo o addirittura forse preferirei la Canary Yellow che è dietro l'angolo. Tra poco ci arriviamo. Sono molto curioso di sapere la vostra opinione. Io penso che purtroppo stanno un po' snaturando la scarpa, stanno un po' saturando troppo il mercato e presto inizierà a stancare. Sono contento che sia arrivata la Jumpman Jack per dare un po' di freschezza però non era necessario andare a distruggere un modello e andare a esagerare con le colorway per la Jordan Wallow solo per poter poi andare a dare più hype a queste. Secondo me non era affatto necessario. Ma la vera notizia bomba che è emersa durante questa settimana è Kanye West parte di un commercial di Nike, parte di una pubblicità di Nike. Infatti il 10 di maggio in occasione del drop della Jumpman Jack in colorazione University Red sia sulla pagina ufficiale di Instagram di Travis Scott che sulla pagina ufficiale di Instagram che quella di Cactus Jack sono state pubblicate delle fotografie e un video che contenevano Kanye West che stava indossando proprio queste Jumpman Jack. Non è la prima volta che vediamo Kanye ritornare ad indossare delle Nike, infatti qualche mesetto fa l'abbiamo visto con i piedi delle Air Force One completamente nere ma al momento non si hanno informazioni precise se sta cercando di riallacciare i rapporti con Nike o meno. Per chi non sapesse la storia Kanye West ha collaborato con Nike per alcuni anni dando alla luce dei modelli che al giorno d'oggi sono considerati tra i più ambiti per quanto riguarda il mondo delle sneaker come le Air Easy 1 o 2 per poi andare a litigare con loro e correre direttamente dall'eterno rivale Adidas e poi il resto della storia penso che la sappiate tutti. Easy, tante Easy, fini di Adidas con Easy e poi sono arrivati gli Easy Pods di cui stay tuned perché presto ne avremo una recensione sul mio canale. In ogni caso se Kanye dovesse decidere di ritornare a lavorare con Nike sarebbe veramente un cambio epocale e potremmo aspettarci tutto come potremmo non aspettarci niente. Potremmo aspettarci dei restock delle Air Easy, potremmo aspettarci cose completamente nuove ma potrebbe anche tranquillamente non succedere nulla. Non abbiamo assolutamente certezze, quello che sappiamo è che già il fatto di aver avuto Kanye West in una pubblicità della Nike è veramente un passo molto molto grande. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e se anche voi sperate nel ritorno di Kanye West con Nike. Andiamo a chiudere l'episodio dando un'occhiata a ciò che uscirà settimana prossima. Poche release ma molto molto importanti. Innanzitutto finalmente abbiamo delle date ufficiali per quanto riguarda le Dunk SB in collaborazione con Futura. Le date effettivamente sono tre. Il 15 verranno rilasciate tramite la chiusura della raffle indetta direttamente sul sito di Futura Laboratories. Futura Laboratories? Quel sito lì. Raffle che spedisce in tutto il mondo. Non so dirvi se dovrà essere aggiunta la dogana o meno. Di solito per quanto riguarda questo genere di raffle con EQL la dogana è già inclusa nel prezzo finale. Quindi la raffle è già aperta mi raccomando andate a iscrivervi se volete una buona possibilità. Il 18 invece è prevista la release presso gli Skate Shop. Tanti tanti stanno già aprendo le loro raffle e le stanno anche già chiudendo. Quindi vi consiglio di non aspettare. Cominciate bene ad informarvi e cominciate già ad entrare in tutte queste raffle. Infine poi il 22 o 23 maggio verranno rilasciate direttamente sull'applicazione Sneakers. Prezzo di retail 130 euro. Saranno molto 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 limitate. Quindi sperateci sì ma non troppo. Preparatevi alla grandissima pioggia di L. 17 di maggio invece avremo la release della Jordan 1 Low in colorazione Canary Yellow. Definita anche Elkins High in collaborazione con Travis Scott. Ne abbiamo già parlato tantissimo. Il prezzo di retail dovrebbe essere intorno ai 150 barra 160 euro. In taglie da donna ma a quanto pare sarà disponibile anche in extended sizing. Quindi il sizing sarà femminile ma anche con le taglie che arrivano fino al 49. Una cosa del genere magari qualcosa di meno. Ci saranno anche taglie superiore al 44 e mezzo fortunatamente. Gente di Milano tenete gli occhi aperti perché è previsto anche uno sneakers pass. Non si sa ancora quando verrà rilasciato. Mi raccomando tenete gli occhi aperti. Infine release che vi butto lì ma che non è assolutamente confermata per il 18 di maggio è la Jordan 4 Oxidized Green. Al momento Nike sta a quanto pare caricando lo stock piano piano sull'applicazione sneakers. Non è ancora visibile la scarpa sull'app quindi dubito che verrà effettivamente rilasciata questo sabato. In ogni caso siete interessati. Adesso lo sapete. Eventualmente siete pronti. Quindi ragazzi per questo episodio di Soul Corner è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate della situazione tra Kanye West e Nike. Secondo voi potrebbe veramente tornare? Ma soprattutto sono curioso di sapere cosa ne pensate di tutte queste Jordan 1 Law in collaborazione con Travis che stanno per arrivare. Potrebbero essere un po' troppe. Potrebbero far contento un po' più di persone. Comunque riusciremo a non prenderne nessuna. Se questo video vi è piaciuto e come al solito ti invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo alla prossima.